alza bandiera al villaggio olimpico il quartiere modello destinato ad ospitare gli atleti partecipanti ai giochi 4725 vani utili per i sogni di primato degli olimpionici 8000 posti letto nelle 12 mese al lavoro l'internazionale dei cuochi breve sguardo ai servizi parata di casse forti nella sede bancaria completa assistenza all'ufficio postale massima rapidità di comunicazione grazie alle telescriventi ovvie ragioni hanno consigliato di dividere il villaggio in due parti una riservata agli uomini una alle donne